Due giorni fa erano arrivate queste scarpe e queste scarpe e queste scarpe. Sì, però pure io, perché devo mettere tutto in mezzo e mettere queste qua, qua, sì, manco le so più mettere le scarpe, le mettiamo, queste qua, qua. Ok, raga, due giorni fa che mi sono arrivate queste scarpe, avevo fatto un video e oggi è arrivata l'ultima scarpa, che è sempre la Nike, mi piacciono troppo le Nike, no, forse la penultima, sì, è la penultima, vediamo, sono le Air Max, sono bellissime, non me le sono ancora provate, non mi vanno bene, odio mia sorella, questa qua è la prima Air Max, e questa qua è la seconda, oh mio D, e raga, mi piace troppo, facciamola apposta che non le voglio rovinare, prima di mostarle, e raga, spero che questo video sia piaciuto dell'unboxing dell'unboxing di Lady Max, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo,